Buon salve e bentornati su No Mamamazzo. C'era una volta a Hollywood, film scritto e diretto da Quentin Tarantino, il suo nono e penultimo film. Ebbene sì, perché Quentin Tarantino più e più volte ha dichiarato che al decimo film si ritirerà dalla carriera di regista cinematografico. Se non conoscete Tarantino e il suo lavoro, conoscetelo perché Quentin Tarantino è un regista dalla firma autoriale molto spessa, molto presente. Se voi guardate un film di Tarantino, capite che è di Tarantino. Ed è un regista molto citazionista. La sua firma registica consiste proprio nell'omaggiare sia a livello registico, sia a livello di trama, sia a livello di titolo. Di personaggi, eccetera. Uno stile cinematografico o anche televisivo che non c'è più. Quentin Tarantino ci ha sempre dimostrato apertamente il suo amore per il cinema del passato, per il cinema western, per gli spaghetti western. Questo film è un connubio di tutto il suo amore verso quest'epoca. Ma partiamo proprio dal titolo. C'era una volta a Hollywood, perché ha un significato molto profondo in questo film e duplice. Innanzitutto c'era una volta a... è anche essa una citazione a... C'era una volta al West e c'era una volta in America, che sono due film di Sergio Leone, di cui appunto Quentin Tarantino è un grandissimo ammiratore. Entrambi questi film narravano la fine di un'epoca, la fine dell'epoca western, la fine dell'epoca degli anni 30 della mala italiana in America del proibizionismo. Questi film narrano della fine di un'epoca. E non da meno, Quentin Tarantino con il suo C'era una volta a Hollywood vuole narrare della fine di un'epoca, l'epoca della Hollywood precedente alla controcultura americana. Quindi la Hollywood ancora un po' naif, se vogliamo, che in quegli anni vede molto presente la cultura hippie e anche vede presente la nascita delle comuni hippie. La più tristemente famosa di tutte è la comune di Charles Manson, la famiglia che sono appunto i seguaci di questa setta hippie di Charles Manson, che è stato il mandante di un eccidio, l'eccidio di Cielo Drive, che è la via dove è ambientato questo film a Hollywood, che ha veduto protagonista la morte di Sharon Tate, che è stata la moglie del regista Roman Polanski. Questa è storia e non vi sto raccontando il film. Questo film è proprio ambientato in questo preciso anno, in questo preciso periodo di tempo in cui è successo questo efferato massacro in questa villa di Hollywood, ma non è il fulcro di questo film, bensì questo evento viene solo sfiorato dalla storia di questo film, perché la storia di questo film ci parla invece di un personaggio di finzione che è l'attore Ricky Dalton, interpretato da Leonardo DiCaprio, ed è la sua inseparabile controfigura, stuntman nonché amico, Cliff Booth, interpretato da Brad Pitt. Entrambi attori che Quentin Tarantino ha già diretto in altri film, Quentin Tarantino ci tiene a riutilizzare gli attori con cui lavora, e anche questa è parte della sua firma registica. Il film fondamentalmente ci mostra uno spaccato di vita di questi due personaggi, e non c'è un vero intreccio che ci porta a un crescendo finale, dove la trama ha una scena madre e il film si conclude. Il film ha una scena madre e il film si conclude, ma prima non c'è un crescendo, c'è semplicemente uno spaccato di vita di Rick Dalton, Cliff Booth, e in parallelo, anche in misura minore, di Sharon Tate. Sharon Tate è interpretata da Margot Robbie, la Harley Quinn della Suicide Squad, se vogliamo chiamarla così. Non essendoci una vera e propria trama in senso stretto, il film può risultare molto lento, anche per gli standard tarantiniani, quando non c'è azione in scena. Ma è stato proprio sicuramente una scelta registica di Tarantino, perché Tarantino è uno di quei registi che fa quello che vuole fare, non c'è una produzione che tenga, che gli imponga in qualche modo qualcosa. Tutto quello che Tarantino fa, lo fa perché vuole che esca così. E Tarantino ci ha voluto proprio raccontare qualcosa, cioè la vita, la vita di questo attore, che non è realmente esistito, ma può far riferimento a molti attori di quell'epoca, e con la vita di questo attore ci ha raccontato anche quello che lui ama, di questo genere di film, di questo genere di telefilm, ci ha mostrato appunto questo attore nelle vesti di un bandito western, e abbiamo visto una prova di Leonardo DiCaprio da attore fenomenale, che ha ricordato molto la prova d'attore che ha avuto in Django Unchained. Abbiamo visto Leonardo DiCaprio, scusate, Rick Dalton, interpretare un film contro i nazisti, e ci ha ricordato anche lì Bastardi senza gloria, ci ha ricordato quanto Quentin Tarantino detesti e voglia morti nazisti. Quindi è stato un film molto citazionista, ma anche autocitazionista, e la firma registica tipica di Tarantino non si nota tantissimo in questo film nella vita che scorre degli attori, protagonisti, ma si nota nei film e telefilm che sono girati all'interno di questo film, non so se mi spiego. Lì si nota la firma tarantiniana, oltre che nelle pochissime scene d'azione che si vedono in questo film. Scene d'azione che per vederle dobbiamo penare parecchio, nel senso che appunto il film è lunghetto e c'è questo scorrere di vita che sembra non portare a nulla, e d'un tratto ci sono un paio di scene d'azione che comunque valgono il film. Da adesso in poi esprimerò dei concetti che potrebbero essere interpretati come spoiler, quindi se non volete sentirli io conto fino a cinque, così potete mettere in pausa il video e vedervelo quando avete visto il film. Cinque, quattro, tre, due, uno. Avete capito perché ho fatto tre così? Stavo citando Bastardi senza gloria. Vi ha gli spoiler. C'era una volta a Hollywood. C'era una volta, cioè oltre alla citazione dei film che ho detto prima di Sergio Leone, c'era una volta al West e c'era una volta in America, c'era una volta, semplicemente, è una citazione a dove viene usato più comunemente questo termine, cioè nelle fiabe, nelle favole. E questa è una fiaba, è una favola perché non ci racconta la realtà, non ci racconta cosa è realmente successo in quel cazzo di cielo drive a Hollywood nel 69 a Sharon Tate da parte della family di Charles Manson. Ci racconta quello che Tarantino avrebbe voluto succedesse, così come in Bastardi senza gloria Quentin Tarantino ci racconta di un Adolf Hitler che viene massacrato di colpi di mitragliatrice dai Bastardi senza gloria all'interno di un teatro in fiamme. Qui ci mostra come quegli stronzi di falsi hippie della famiglia Manson che vanno a uccidere Sharon Tate, in realtà non vanno in casa di Sharon Tate ma vanno in casa di Rick Dalton e trovano Rick Dalton e Cliff Booth che gli fanno il culo e con gli fanno il culo intendo dire che gli ammazzano, gli ammazzano malissimo ed è una scena fantastica da vedere. È una scena che è straniante perché ero convinto di andare a vedere la realtà, cioè di andare a vedere delle scene tarantiniane riferite a quello che è successo a casa di Sharon Tate in quell'anno. Invece abbiamo visto la rivincita da parte dei buoni contro la famiglia Manson. Quindi abbiamo visto una favola dove i buoni vincono e i cattivi perdono, come disse il signor Giles in Buffy. È stato molto appagante vedere questi stronzi venire brutalmente uccisi, appagante quasi quanto vedere i nazisti venire uccisi in Bastardi Senza Gloria o i nazisti venire bruciati nel film citato in questo film di Quentin Tarantino. È stato molto bello, quella parte è molto tarantiniana e quella parte io me la rivedrei in loop per giorni. Ci è voluto tanto per arrivare a questa scena, ce la siamo sudata, come ho detto nella parte non spoiler, ma ne è valsa la pena. Anche la scena in cui Cliff Boot è all'interno della comune e picchia quello stronzo di hippie strafatto che gli aveva bucato la gomma e lo costringe a cambiarlo. Quella scena anche è stata bellissima. Con questo io voglio concludere il mio video con qualche facezia. Ho già parlato di una fantastica prova d'attore di Leonardo Di Caprio che ha citato anche le sue interpretazioni precedenti. Quentin Tarantino proprio qua si è sbizzarrito a spremere Leonardo Di Caprio per fargli fare tutto quello che Leonardo Di Caprio sa fare. Lo abbiamo rivisto in veste di cattivo western, lo abbiamo rivisto piagnucolante sul viale del tramonto, lo abbiamo visto ubriaco e sopra le righe come in The Wolf of Wall Street, che non è di Tarantino però sti cazzi. È stato davvero bello vedere questa performance di Leonardo Di Caprio, è stato bellissimo vedere la performance di Brad Pitt che ammazza male i cattivi. Margot Robbie ha avuto una parte minore perché comunque ha dovuto anche interpretare un personaggio reale, quindi è stata questa sognante Sharon Tate. Mi collego a Sharon Tate per dare un piccolissimo punto negativo su una cosa che ho notato. Quentin Tarantino evidentemente è un feticista dei piedi femminili e non ci sarebbe nulla di male se non fosse che ama i piedi femminili brutti. Abbiamo già visto in Kill Bill i bruttissimi piedi di Uma Thurman quando era nella Pussy Wagon cercando di riprendere l'uso delle gambe, però pensavo che fosse contestualizzata la scena perché appunto era stata in coma diversi mesi, la sposa, e quindi aveva dei piedi atrofizzati. Ma qua invece gratuitamente ci sbatte proprio davanti i piedi di Margot Robbie sporchi per qualche ragione nonostante indossasse gli stivali un momento prima e ci mostra anche i piedi della hippie Pussycat, bellissima attrice tra l'altro, fantastica, che vabbè lì ci sta che siano più brutti i piedi perché una hippie ha camminato a piedi nudi quasi per tutto il film e ce li sbatte proprio sempre così davanti alla camera e è un tripudio di piedi brutti questo film. Ma ovviamente non mi sto certo a soffermare su questa cosa, però mi ha fatto specie questa cosa di Quentin Tarantino. Bene, con questo è tutto, non l'ho detto all'inizio, lo dico adesso. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete mi piace al video, ma soprattutto condividetelo con tutte le persone che conoscete che amano Tarantino e questo film o che non amano questo film, così magari ne discutiamo un pochino nei commenti. Ho cercato di stare leggero sugli argomenti, ma mi piacerebbe approfondire, magari quando il film sarà uscito da un po', con altre due persone che se ne intendono molto più di me di questo tipo di cinema, che mi hanno anche aiutato a esprimere alcuni concetti di questa recensione. Infatti ringrazio Marco e Lorenzo, con cui ho discusso del film. Vi ricordo sempre che qui sotto io vi metto dei link in descrizione dove potete acquistare delle cose carine su Amazon e se lo fate dai miei link contribuirete a sovvenzionare il canale. Vi metto sempre nei link anche Together Price che vi aiuta a trovare gente che come voi magari vuole condividere Netflix o Spotify o simili e pagare tutti un po' meno. Con l'inchino e con l'imbuto vi saluto. Arrivederci.